Il gruppo KME ha organizzato, in contemporanea in tutti i suoi siti, una giornata della sicurezza a livello aziendale. Così è stato anche a Fornaci di Barga, dove i lavoratori, divisi in gruppi nei rispettivi turni, hanno potuto approfondire e migliorare le proprie conoscenze sulla sicurezza, sui luoghi di lavoro. L'evento ha compreso una serie di workshop, corsi di formazione e attività in loco adattate alle particolari e specifiche problematiche di sicurezza dello stabilimento. Il tutto utilizzando anche la realtà virtuale, la visione in 3D, la robotica, ma anche i colori ed altro ancora. A proposito di sicurezza, KME Fornaci ha ottenuto in questi anni risultati importanti. Fornaci di Barga, in particolare, abbiamo investito tantissimo negli ultimi anni e abbiamo raggiunto degli indicatori della sicurezza in termini di gravità e di frequenza degli incidenti bassissimi rispetto agli anni passati e anche rispetto alla media degli indicatori del settore metallurgico. In questi anni, da parte di KME, è stata implementata la cultura della sicurezza attraverso anche il programma ASC, all'interno del quale sono state redatte le 10 regole d'oro per la sicurezza, che forniscono a tutti linee guida uniformi per il lavoro quotidiano.